Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze e Scandici provenendo da Bologna. Rallentamenti sempre per il traffico intenso tra Firenze e Scandici e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 code per il traffico intenso tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPILI code per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandici in direzione Firenze. A Firenze per i cantieri della Trambia fino al 31 luglio restringimenti di carreggiata in via del Palazzo Bruciato tra via Pisacane e il Civico 32. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!